Riparte il Circolo dei Buongustai, un grande ritorno sul web per regalarvi una nuova serie di video ricette che potrete gustare ogni settimana su prodigus.it Promotori di gusto, la nostra testata giornalistica online per la cultura e la promozione del cibo. Seguitemi anche sui social per conoscere le pubblicazioni settimanali e poi lasciatevi ispirare dalle mie ricette. Vi aspetto al Circolo dei Buongustai. Ciao e grazie! Grazie!